È balzata anche sulle cronache nazionali la notizia però anticipata dalla redazione dell'Aquila del messaggero, del maniaco, che molestava le ragazze nei cinema. Si tratta però di un aquilano, un camionista aquilano, questa l'identikit con la passione per il cinema, attirato però non dai film ma dalle giovani donne sole. La fine delle sue imprese però, come racconta il messaggero locale, hanno avuto fine a Milano. L'aquilano è di 59 anni, ah, sono le sue iniziali. Per lui il cinema era un luogo sicuro per dare sfogo ai propri istinti, ora però è stato arrestato ed è rinchiuso nel carcere di San Vittore. Secondo l'accusa, il camionista, che era spesso a Milano per ragioni di lavoro, sarebbe un vero e proprio molestatore seriale, che puntava donne non accompagnate da palpeggiare una volta sulle poltroncine. E come ha fatto nel passato, qualche giorno fa, l'uomo è entrato in un cinema di Milano per trovare le sue vittime. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo si è seduto accanto ad una ragazza di 25 anni di Milano, che però era in compagnia della madre. A un certo punto la giovane ha sentito la mano del 59enne Aquilano su di lei. Immediatamente si è alzato e si è messo a urlare. Le urla hanno richiamato l'attenzione del pubblico, ma anche degli addetti alla sicurezza, che hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Lui intanto stava tentando di fuggire, lo hanno bloccato a pochi metri di distanza dal cinema. Alla vista dei carabinieri, intuendo che la loro presenza fosse ricollegabile a quanto aveva fatto, ha tentato di resistere all'arresto. Portato in caserma, i militari hanno scoperto che aveva dei precedenti analoghi. Negli altri casi, ad incastrarlo, sono state le immagini di alcune telecamere poste all'esterno del cinema.